L'Alessandra ha già una sorella, una rossa buona e bella ed ha anche un nipotino rosso con piacchiterino. L'Alessandra è una maestra che non mangia mai la minestra e che dice ai suoi ragazzi, su mangiate e non farvi i pazzi! L'Alessandra è una maestrina che ci sa fare anche in cucina, fa le torte coi fagiolini, vedi in bocca i suoi pulcini! L'Alessandra è un po' pazzerella quando si lava nella padella, quando pretende di insegnare alle galline a volare! L'Alessandra è sempre calma coi bambini della classe, resta ferma come una palma anche quando rompono le casse! L'Alessandra è un po' pazzerella, bravissimi bambini, bravi, bravi... Grazie a tutti.